che non riguarda più tanto aspetti tecnici informatici come abbiamo visto l'altra volta quindi l'utilizzo di programmi o la comprensione di minacce che possono esserci online ma diciamo un po' di corollario di quello che sta attorno al contesto digitale e quindi l'applicazione soprattutto oggi di principi di psicologia, neurologia e cose simili a quello che voi vi trovate quotidianamente davanti quando venite coinvolti in una campagna pubblicitaria, quando navigate su un sito di chiunque di una pubblica amministrazione, di un gestore telefonico o di un e-commerce che vi vende scarpe chiunque sia dall'altra parte in teoria si rifà a tutta una serie di regole che mi fa piacere raccontarvi molto brevemente, molto a livello superficiale approfondendo di più quello che vi può interessare perché così, come dicevamo per le minacce web, sarete un po' più consapevoli nel momento in cui vi viene presentato una qualsiasi tipo di proposta o offerta banalmente quelle che si riconoscono più facilmente sono la scarsità quindi vi dicono questa offerta vale solo per le prime dieci persone che chiamano l'urgenza, quindi appunto scadrà domani mattina tipo poltrone sofà che è una promozione che finisce questo mese da sei anni più o meno però utilizzano questo principio che se conoscete potete banalmente etichettare sapere che lo stanno dicendo per quel motivo vedremo soprattutto nella prossima lezione che è sulla user experience come queste scelte e questi principi impattino poi proprio su come vengono costruite le pagine web per esempio cioè dove viene messo il tasto, dove viene messo il testo, dove viene messa l'immagine in realtà non è casuale ma è frutto di una... più o meno nel senso che ovviamente ci sono anche dei prodotti che sono meno studiati però normalmente è frutto di un'analisi di che cosa fanno gli utilizzatori del sito ci sono dei software che servono per visualizzare le heatmap cioè dove sia su mobile sia su schermo di computer fisso si sofferma di più lo sguardo di chi sta visitando il sito oppure sul cellulare dove viene toccato di più il sito e quindi in base a queste mappature chi sviluppa il sito dall'altra parte sa che deve mettere un contenuto a sinistra, a destra, deve mettere il tasto acquista prima che cosa deve scrivere, cose di questo tipo quindi la prossima volta saremo più incentrati su quello oggi invece vediamo i principi generali le ultime due lezioni invece sono una sui prosumer che è un neologismo e anche qua avrò tanti inglesismi purtroppo ma ve li spiego ma perché le traduzioni sono più brutte dei termini inglesi per cui ve lo faccio notare poi fra poco i prosumer sono una figura inventata di questi utenti che utilizzano i siti o utilizzano i servizi o si informano o sono comunque il target delle campagne di comunicazione e di pubblicità che non sono più consumatori ma prosumatori cioè sono consumatori professionali che si scambiano opinioni quindi in generale nel mondo prosumer li hanno definiti così poi invece di consumer, prosumer perché di base oggi pare cioè indicativamente io non mi informo più se devo comprare una lavatrice sul sito Ariston ma mi confronto sulle recensioni che fanno gli altri utenti quindi prendo informazioni sul prodotto Ariston non dal canale ufficiale ma da transport, da altri portali dalle recensioni di Google recensioni, dalle recensioni su Amazon e quindi c'è sempre più una parte attiva del consumatore che si informa, scambia opinioni, scambia commenti ed è tutto il mondo delle recensioni sul prosumer è anche chi compra per tante persone che si rivolgono a lui per sapere cosa comprare? no, nel senso che quello può essere anche un prosumer il prosumer è più indicato sulla fase di acquisizione informazioni in quel caso è più un influencer nel senso vero del termine cioè non è l'influencer che ha il profilo Instagram si fa le foto e tutti comprano quello che ha fatto ma è chi influenza le abitudini di acquisto e ci sono tanti livelli di influencing per esempio Amazon ha un servizio in cui ci si può iscrivere liberamente in cui si recensiscono i prodotti si apre una propria pagina in cui si prendono prodotti venduti da altri store da altri soggetti, vari ed eventuali anche a livello non professionale e facendo gli influencer di Amazon quindi intesi in questo senso si fa una specie di vetrina dei prodotti che si consigliano e si ha tra l'altro una percentuale sulle vendite di quei prodotti che Amazon corrisponde agli utenti è una cosa che volendo potete fare in qualsiasi momento cioè se voi siete abituati ad acquistare su Amazon non so avete comprato la lavatrice su Amazon avete speso 600 euro decidete che quella lavatrice è il top del top e va benissima, bellissima la mettete nella vostra pagina li chiamano affiliate su Amazon la pagina d'affiliate se qualcuno la compra dalla vostra pagina quindi ha un URL un po' più complicato perché c'è un pezzo in più che indica che è passato da voi a fine mese Amazon vi riconosce l'1% di quei 600 euro quindi tipo il grande influencer nell'ambito tecnologico che tutti conoscerete che è Salvatore Aranzulla che è uno dei primi che ha creato un blog su questi temi tech e su come fare le varie cose e dietro ha un team notevole di persone perché ha un fatturato anche consistente come sito e adesso è nell'ecosistema Corriere della Sera come gruppo editoriale quindi è una realtà abbastanza composita se notate quando mette il link a un prodotto o il link a un software ha sempre questo link che è un po' più composito del link normale perché ha un tracker che vuol dire che gli vengono anche corrisposte commissioni su quella vendita lì perché è ovvio che se voi appunto avete comprato una lavatrice uno che vi segue su Facebook compra la stessa lavatrice dal vostro link e vi fate 6 euro siete contenti perché non vi è costato nulla è ovvio che se lo comprano in mille sono 6.000 euro per cui diventa già un giochino più interessante quindi questa sarà la terza lezione invece l'ultima sarà sulle call in generale cioè su questo grande spostamento di abitudini che parzialmente stiamo vivendo anche qua perché mi registrano e poi chi vuole vede la registrazione ma in teoria questi incontri che facciamo e che mi fa piacere fare vis a vis potremmo benissimo fare ognuno da casa sua guardando sul cellulare o sul computer sarebbe più noioso non mi farei la passeggiata per venire fino a qua che mi piace tanto però probabilmente ci sarebbe più partecipazione quindi anche lì c'è tutto un mondo fatto di Zoom fatto di Google Meet WebEx un'infinità di programmi con problemi di privacy problemi vari a seconda delle piattaforme che vedremo oggi però siamo sulla behavioral economics che in realtà era un ragionamento che avevamo fatto con un partecipante a una delle scorse lezioni che oggi non c'è che mi aveva chiesto quando vi avevo domandato che cosa vi potesse interessare di più come argomenti di rimanere su temi un po' più generali e non andare proprio sullo specifico dei software e questo è uno dei temi che mi appassionano di più perché finché vi ho parlato di discorsi digitali e anche nel momento in cui vi racconterò della user experience parliamo di cose freddamente tecniche in cui voi o noi o comunque il pubblico di clienti potenziali vengono utilizzati come dei deficienti che vengono spostati e mossi in base a dove viene messo un tasto e quindi su 100 se il tasto è a destra cliccano in 40 se il tasto è a sinistra cliccano in 35 ed è statistico funziona così ma noi non abbiamo libero arbitrio e la cosa mi piace poco la B.E.V.O.R.Economics invece è una scienza che si è diffusa dagli anni Ottanta in poi che ha dei principi scientifici appunto di analisi economica e che molto molto sunteggiandola si fonda sul fatto che gli acquisti e gli atteggiamenti umani non siano prettamente razionali e quindi studia tutta una serie di processi proprio mentali che fa l'utente per approfittarne e quindi in maniera positiva fare una cosa che per esempio fa tantissimo il governo britannico nel migliorare le abitudini dei cittadini dal pagare le tasse al traffico stradale a quant'altro a livello un po' più interessato da parte delle aziende banalmente è un modo per cercare di convogliare di più i consumatori a fare ciò che si vuole in questo senso si arriva fino a quello che in neuropsicologia cercano di fare come neuromarketing che è quasi manipolatorio io quello non l'ho mai approfondito ci sono dei corsi apposta che in teoria sono quelli che fanno tanto i commerciali d'assalto quelli che vi telefonano vi incalzano vi dicono se entro la fine della telefonata chiudete il contratto avete 1000 euro di sconto rispetto a 2000 euro di preventivo per l'antifurto e sapete che ci sono i furti tutti i giorni ci sono proprio dei meccanismi psicologici per cui i commerciali puri e formati riescono a farvi un po' di violenza psicologica e concludere molte più vendite rispetto a quelle che concluderei io facendo dei ragionamenti tutto questo si basa su come funziona il cervello umano come funziona il cervello umano è proprio la cosa che è interessante approfondire perché la pubblicità fa leva su quello io in questo breve testo cito un telefilm che soprattutto nella prima stagione mi era piaciuto molto che era Mad Men che era un telefilm sui pubblicitari degli anni 50 negli Stati Uniti a Madison Avenue sì esatto dove c'è questa agenzia pubblicitaria immaginaria con il copywriter con l'account che viveva gli anni d'oro della pubblicità americana lì è tutto emozione passione nel senso che la vendita viene fatta perché si racconta il sogno per cui io non ti devo parlare del prodotto ma ti parlo di che cosa il prodotto rappresenta per te tutte queste cose molto belle che oggi purtroppo funzionano molto meno ma sono il motivo per cui ho scelto di fare il lavoro che faccio da lì al fatto che adesso la creatività serva più che altro per attirare l'attenzione e poi dopo che si è attirata l'attenzione ci sono altri strumenti per farla funzionare c'è tutto un mondo che non sono solo i big data di cui parlavamo l'altra volta quindi appunto su 50 persone so che 10 faranno quello che io voglio 5 lo faranno se cambio con una cosa nessuno lo farà se non applico determinati criteri ma è tutto molto impersonale invece se noi ci soffermiamo sugli schemi mentali torniamo di nuovo con la persona al centro il modo di ragionare che ha al centro è molto complesso approfondire come funziona il cervello e ovviamente non stiamo facendo una lezione di neurologia per cui sono un po' di slide ma vado veloce ci sono tanti approfondimenti interessanti che potrete fare se l'argomento vi interessa di base ci sono delle zone diverse del cervello che fanno azioni diverse vengono attivate o non attivate a seconda degli stimoli che ricevono quindi già solo il fatto di usare il suono il profumo o il video il fatto di usare le emozioni o di usare la parte razionale del cervello il fatto di come viene presentato un contenuto attiva in maniera diversa la mente umana e come questa reagisce agli stimoli ci sono sul neuroimaging che più o meno è l'applicazione al cervello umano di quello che vi dicevo delle heatmap cioè se io su un sito posso vedere dove cliccano gli utenti sul cervello umano con adeguati strumenti posso vedere dove si attivano le aree a seconda di che cosa faccio vedere all'utente quindi stanno analizzando questa parte in maniera abbastanza approfondita tutto questo discorso è anni indietro rispetto a una serie di altri ambiti scientifici dall'aerodinamica alla chirurgia ai trapianti e quant'altro dove è tutto molto più meccanico diciamo il cervello umano continua ad avere una grande alone di mistero perché funziona bene funziona con elettricità ma capire dalle malattie neurogenerative degenerative in poi perché per come come funziona che cosa sia la coscienza eccetera è ancora una cosa fortunatamente abbastanza misteriosa ed è sotto la lente di tanti scienziati breve riassunto questo è il cervello sempre a a volo rapido il lobo limbico è quello che vi permette di approfondire ragionamenti abilità motore cognizione superiore linguaggio espressivo il lobo parietale quello che processa le informazioni tattili quindi anche il dolore il lobo occipitale interpreta le informazioni visive quindi è quello che la pubblicità colpisce maggiormente il lobo temporale processa suoni forma memorie quindi anche su quello se una pubblicità per esempio vuole evocarvi un ricordo quindi non so vi fa vedere un'atmosfera anni 80 che potenzialmente vi ricorda come vivevate negli anni 80 sta facendo gioco su un lobo che non è lo stesso su cui farebbe gioco se vi dicesse vi conviene comprare questo prodotto perché costa il 10% meno dei competitor e dura un anno in più quindi in questo modo frontal lobe no dovrebbe essere sì 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 è quello sì 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 perché ho trovato l'immagine in inglese però sì è il frontale il limbico poi c'è il cervelletto che invece serve per coordinare equilibrio postura e movimento nel sistema limbico no anzi il limbico è quello centrale è dentro cioè è all'interno non è indicato perché sarebbe il nucleo sì no è un'ottima domanda è un'ottima domanda ma ho anche una risposta che è abbastanza basata su dati scientifici le parti del cervello che vengono attivate sono quelle quindi la memoria è sempre attiva sempre le sinapsi e la parte del cervello che è studiata come riferimento della memoria la parte motoria è sempre la stessa tanto che si vede soprattutto sulle malattie perché per esempio se una parte o se c'è un incidente proprio per cui viene lobotomizzata una parte del cervello simili o ci sono ictus o problematiche che incidono su una parte specifica del cervello impatta su zone motorie per esempio o su facoltà come quella linguistica che sono sempre le stesse sia che uno sia andato in Cina che nel no non ci sono condizionamenti condizionamenti poi ci sono a livello cosciente su tutta una serie di schemi mentali che però non sono fisicamente quale parte del cervello si attiva sul sistema limbico ci sono funzioni sensoriali e motorie nel talamo l'ipotalamo omeostasi emozione sette fame ritmi circadiani quindi il sonno e quant'altro l'amigdala o amigdala insomma è come si dica emozione memoria paura e l'ippocampo formazione della memoria navigazione spaziale poi ovvero tronco cerebrale visione udito movimento corporeo ponte sonno respirazione coscienza midollo frequenza cardiaca respirazione funzione autonome questo era proprio per darvi una panoramica del fatto che ci sia una bella mappatura io non ve lo saprei ripetere se non lo leggessi nel senso che so che ci sono queste aree so che è utile saperlo ma non sono mai entrato nello specifico ma da tutto questo ne origina uno studio che invece conosco un po' di più che è molto interessante che è di un premio nobel che ha scritto thinking fast and slow cioè pensiero lento e pensiero veloce che è un po' diciamo il testo che ha fondato questa teoria della bivio real economics molto sunteggiato visto che è un bel tomo ed è molto interessante fa un sacco di esempi pratici parla di quando questi due modi di pensare entrano in conflitto e quando invece sono sinergici teorizza che ci siano due due sistemi di pensiero sempre all'interno di tutte le persone indipendentemente dalla loro origine dal loro contesto un sistema di pensiero che possiamo riassumere come quello razionale che quindi è più su base empirica più 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 collegato alla realtà e all'analisi fattuale di ciò che avviene è uno di tipo più irrazionale emozionale che è quello che ha i pregiudizi ed è quello che ci aiuta a pensare rapidamente è quello per dirci un altro esempio che sapete che da tutte le parti si dice sono i primi sette secondi che fanno la differenza quando uno incontra un'altra persona perché c'è la chimica o è la prima impressione che conta o ci sono tutta una serie di luoghi comuni che nascono da questo che però in realtà è un fatto ecco quello è il pensiero veloce cioè irrazionalmente il nostro cervello fa un sacco di connessioni inconsce che noi non ci rendiamo conto che stia facendo fa due più due si ricorda non so il naso che lei ha mi ricorda un mio amico d'infanzia per cui positivo gli occhiali mi ricordano un mio professore per cui positivo impressione positiva oppure non so all'opposto mi mette in guardia perché sono stato truffato cinque anni prima telefonicamente da uno che aveva un timbro che mi ricorda il suo timbro e quindi sono più refrattario a fidarmi quindi le percezioni in realtà non sono mai completamente oggettive e anche questo è uno dei fondamenti per cui la behavior economics dice occhio che va bene che nella teoria economica ognuno fa il proprio bene cercando di spendere il meno possibile ottenere il miglior risultato possibile con quanto spende però non è poi così vero che la decisione venga presa in maniera così matematica qui c'è il virgolettato praticamente che sarebbe la sioma cioè gli esseri umani compiono decisioni razionali tengono conto dei costi e dei benefici complessivi di ogni scelta che facciamo nella vita e questo sarebbe l'economia tradizionale che lo dice è più complicato come stavamo iniziando a vedere perché appunto ci sono un pochino più di implicazioni l'euristica appunto quello che vi dicevo l'approccio concreto l'analisi della realtà e i pregiudizi sono la base di questi studi questo perché appunto nel pensiero veloce o nel pensiero lento si teorizza molto tutti si teorizzano molto tutti quei processi che il cervello fa per velocizzare le decisioni e quindi quello che vedremo fra poco che sono soprattutto il famoso nudge framing priming che vi spiego poi tutti gli inglesismi che vi dicevo ma che sarebbero più o meno spintine gomitatine tradotti per cui è più efficace in inglese sono concetti che sfruttano il modo in cui il cervello forma questi pregiudizi che possono essere chiamati bias o bias a seconda che la pronuncia sia più latina o più americana che sono appunto la forma mentis che uno ha come applica quello che è abituato a pensare su quello che sta per vivere potenzialmente per fatto notare che io non corrispondo alla descrizione della frase che uno fa le cose che c'è anche visto il nome cioè io prendo decisioni in base a coloro che mi piace la stella non mi sto a fare tutte le loro situazioni quindi può capitare che uno non abbia balance cioè questa mi verrebbe da dire che sì 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 però è anche uno studio su come funziona il cervello per cui mi verrebbe da dire che non è tanto possibile non avere bias o bias è possibile averceli diversi dalla maggioranza nel senso che nel percorso proprio di formazione di un essere umano è un modo di pensare cioè è il motivo per cui non tocco qualcosa di caldo perché se vedo che c'è un ferro che è rosso perché è roventato io non lo tocco proprio a livello istintivo perché anche se non sento calore il rosso mi richiama emotivamente il fatto che sia caldo quindi lo studio è molto possibile questo i di Aspires sono veramente differenti a questo il tema è ovvi che è una ormai una multinazionale è una una delle grandi aziende di pubblicità del mondo che è stata fondata negli anni di Madman quindi negli anni 50 tanto divertenti e in cui funzionava tanto bene da un espatriato mi sembra scozzese o irlandese penso scozzese negli Stati Uniti questa grande agenzia pubblicitaria ad oggi sono quelli che hanno proprio un dipartimento di Behavioral Communication e Behavioral Economics e collaborano molto con il governo britannico in altri paesi è meno diffusa quindi non è ancora usato universalmente come cosa ma le pratiche che teorizza sì perché per esempio la prima che vediamo che è il famoso nudging che vuol dire dai di gomitino vuol dire spingervi a fare qualcosa senza investimenti enormi cioè una onlus o un qualsiasi soggetto che debba promuovere e non ha la possibilità di fare come la Coca Cola una campagna pubblicitaria in tutto il mondo in televisione sui cartelloni in Madler raccogliere i fondi per restaurare i libri qua della fondazione FIAPO faccio l'esempio deve sfruttare delle leve che funzionino sul loro pubblico e che siano un po' creative ma adesso questo lo vediamo anche se un esempio un po' che capiranno più i maschietti delle femminucce questo è un butter appeso a un muro è una cosa che si è diffusa in Europa ed è anche un po' ha fatto notizia c'è un disegno di una mosca perché così i bagni restano molto più puliti questo è l'esempio perfetto di di Naloo ci sono un po' di esempi un po' più in alto un po' più a destra un po' più a sinistra esatto no è vero però quelli non l'ho visto esattamente a sinistra a destra comunque questo è l'esempio che ho scelto perché non è delicatissimo è molto chiaro uno può scrivere cartelloni grossi così tipo lascia il bagno l'hai trovato e quant'altro ma non funziona invece con questo mezzuccio ha funzionato questo perché appunto le decisioni non vengono prese in modo isolato le decisioni non vengono prese senza che tutto il cervello in qualche modo venga coinvolto quindi parlavamo dei pregiudizi ma anche di fattori appunto perché la definizione del Nudge è proprio che sia un intervento semplice ed economico cioè se io per riscaldamento quindi sono della Philip Morris sono dei caricatori elettrici con dentro una specie di sigaretta delle cartucce che sono delle sigarette o meno e hanno abbastanza investito tutto il mercato e sono molto diffuse per esempio in Italia quello non è nudging perché Philip Morris ha investito non so quanti milioni di euro nello stabilimento di Bologna che le produce sono andati avanti a fare eventi pubblicità e a modificare le abitudini di acquisto dei fumatori che sono con le abitudini più difficili da modificare farcemente fidelizzato per cui è stata una conversione molto solida del loro target di riferimento però era una conversione che è stata una strategia internazionale di una multinazionale segnino di una mosca nel Valle di Mira quindi questo per darvi i confini del discorso è un incoraggiamento architetti della scelta è una definizione che è sempre nata nell'ambito di questa branchia della neuropsicologia che è la via Euroeconomics che sono i choice architect e sono un altro esempio che vi volevo fare perché è molto interessante l'esempio principe è la mensa dove mangiano i dipendenti di Google e vi faccio degli esempi pratici per capire di che cosa si parla nel momento in cui Google è diciamo diventato uno dei posti in cui gli statunitensi vogliono di più lavorare perché sia le condizioni economiche che l'ambiente di lavoro sono tra i migliori è emerso il problema della mensa che era una mensa tradizionale in cui uno entrava si comprava il cibo se lo mangiava a lavorare di mettere regolamenti o cambiare la disponibilità di prodotti e quindi scegliere dei menù più non so vegani piuttosto che più leggeri hanno ridotto un pochino i piatti di dimensione perché così se uno si serve sembra più pieno il piatto e hanno disposto diversamente gli alimenti quindi più visibili all'ingresso di prima insalate healthy food e cose che si consigliavano di più di mangiare e tipo le patate fritte in un angolino che bisognava cercarsi per vedere qui c'è il link a un video che non vi mostrerò perché se no ci passiamo un quarto d'ora ma è interessante perché è proprio un reportage della BBC sulla mensa di Google quindi vi racconta tutti questi aspetti di come tutte le cose concorrono a spingere l'utente a fare quello che si vuole senza forzarlo in nessun modo vi dicevo prima lo stesso meccanismo è quello per cui le onlus vi chiedono i soldi le onlus alcune possono fare penso la WWF o UNHCR che tra l'altro sono Nazioni Unite non sono una onlus ma i grandi unicef i grandi fundraising che assoldano le agenzie di lavoro interinale con i poveracci che ti chiedono l'abbonamento per prendersi la loro percentualina in giro per strada da lì alle grosse campagne di comunicazione hanno una forza di impatto notevole ma spendono anche molti soldi nel fare campagne per raccogliere fondi e quindi è una cosa che è abbastanza criticata soggetti più piccoli devono inventarsi modi creativi di spingere le persone a donare qualcosa scelta della condizione dei prodotti che sta a fare in agito esatto se io metto quelli per i margini più alti ma anche private eccetera e quelli dove guardano meno in agito sì in agito esattamente e tutto il POP e la GDO quindi tutto il POP sarebbero i punti vendita e la GDO è la grande distribuzione quindi supermercati è tutto basato su criteri di questo tipo sia che venga fatto in modo consapevole quindi viene analizzato diciamo quella teoria che stiamo vedendo sia che venga fatto in modo statistico perché chi ha un supermercato sa benissimo che nella gondola nella punta della corsia vende meglio che non nel piano basso a metà e quindi che cosa fa al distributore che gli dice c'è questo nuovo detersivo fa un prezzo più basso e quindi marginalizza di più per metterlo lì oppure se ha una promozione un'offerta o prodotti che deve smaltire li mette lì e lo sa sulla base dell'esperienza quindi comunque è consapevole quindi tutto quello che succede soprattutto nei supermercati è basato su criteri di questo tipo tutto quello che succede nei negozi di solito è più a livello empirico ma si basa sempre su quello ma banalmente uno mette in vetrina gli oggetti che dovrebbero richiamare di più il tipo di clientela che vuole attirare è banale senza nessuna teorizzazione perché è la cosa che può attirare di più e che voglio vendere quella che metto in vetrina dietro in realtà ci sono tutti i ragionamenti di questo tipo per esempio qui c'era la modifica della default option però poi ci sono è molto divertente approfondire il tema della behavior economics perché avete tutta una serie enorme di principi che quando li analizzate dice ah sì è vero in effetti ci penso anch'io e sono cose che sembrano banali ma tutte insieme non lo sono tipo la default option che cos'è se io vi mando un questionario vi chiedo una cosa e vi metto un'iscrizione automatica con una domanda e scusate faccio un passo indietro i famosi quesiti referendari i maledetti quesiti referendari che di solito vengono messi al negativo cioè se tu voti sì voti per non modificare la norma X e quindi mandi tutti in confusione però al tempo stesso stai usando una default option al contrario perché intuitivamente se voti sì voti per modificare non per non modificare questa è una diciamo un accorgimento che si può utilizzare anche a livello commerciale e e quindi sulla base di come viene presentata una una opzione che l'utente può scegliere si si determina maggiormente un risultato o l'altro per esempio adesso con il GDPR questo non c'è più tanto però nel momento in cui voi compilate qualsiasi forma online alla fine c'è un campo che potete flaggarlo o meno cioè indicarlo o meno in cui volete iscrivere la newsletter del servizio allora se lì si potesse fare il GDPR adesso lo esclude che l'utente debba flaggare per dire non voglio iscrivermi è ovvio che ci sarebbe più gente che lascia di default l'iscrizione anche se quindi messi attuali con il GDPR servono a limitare anche l'utilizzo dei dati sì anche esattamente perché è un passaggio ancora ulteriore perché ovviamente c'è anche il fatto che io magari non leggo quell'ultima postilla oppure cioè il GDPR visto che tutela quello che sta sempre di più conformandosi come un diritto cerca di mettere dei paletti ben precisi però sì il concetto è che non si può aggirare con il nudging quello che una legge ti impone detto ciò se il legislatore europeo si fosse comportato come quello britannico probabilmente invece di fare il GDPR avrebbe dato delle indicazioni di cioè invece di fare per esempio l'obbligo di fare l'opt-in periodico ogni tot avrebbe detto semplicemente agli utenti che fanno i siti come indirizzare il loro pubblico a fare una cosa piuttosto che l'altra cioè invece di dare una norma dare delle abitudini positive certo che dove ci sono interessi economici tipo il trattamento dei dati poi è difficile che la gente soprattutto soggetti economici che utilizzano i siti si lasciano influenzare così tanto comunque questo è a linea di generale altre tecniche di behavioral economics sempre per andare avanti sulla panoramica sono il framing e l'incorniciamento cioè come contestualizzo un'offerta i commitment device qui c'è un errore di trascrizione che ho fatto comunque le opzioni predefinite che vediamo dopo l'abbondanza della scarsità che è quello che vi dicevo prima cioè ci sono solo più dieci prodotti oppure scadrà fra mezz'ora moriti tecniche di adescamento come il priming e i commitment devices cioè i dispositivi di impegno ve le faccio proprio sempre in panoramica veloce poi se volete approfondiamo io tra l'altro mi faccio anche pubblicità da solo anche se non è pubblicità perché sono cose vecchissime che avevo pubblicato avevo sul mio blog che trovate sul mio sito e dopo vi do l'articolo su questo tema perché vi dà modo di approfondire il framing è come si prendano le decisioni sulla base di informazioni sulle quali bisogna decidere queste informazioni sono sia quelle consapevoli e razionali che vengono date sia quelle inconsce ma comunque sono tutte quelle con cui vi infiorettano un prodotto questo è molto utilizzato soprattutto qui è un po' politicamente scorretto dirlo però tutta la questione dei prodotti biologici o tutta molta parte della sostenibilità dei prodotti green dell'energia green e quant'altro al di là della necessità e del valore etico che hanno a livello di comunicazione si avvalgono tantissimo della tecnica del framing cioè perché tu ti devi comprare le galline scusate le uova di gallina allevata a terra in un'aia dove non c'è l'allevamento selvaggio non perché sia più buono o meno buona l'uovo che comprate cioè se la decisione vostra fosse razionale e banalmente razionale dovreste vedere il valore nutrizionale dell'uovo il gusto dell'uovo la dimensione dell'uovo il costo dell'uovo e comprereste quell'uovo se invece considerate il framing quindi tutto lo storytelling che c'è intorno è perché quell'uovo anche se costa meno ed è buonissimo è cattivo perché le galline vengono svegliate ogni tre ore con la luce artificiale stanno in batterie da un milione di galline a piano e fanno una vita orrenda che dura due anni per cui fanno uova e poi vengono ammazzate perché non rallentano il ritmo in cui fanno le uova allora io consumatore che è un minimo mi dispiaccio per queste galline comprerò al doppio del prezzo l'uovo che mi viene presentato come biologico e quindi faccio una decisione di quel tipo che in parte adesso è anche razionale perché ovviamente approfondendo gli allevamenti massivi intensivi vedo anche che ci sono problematiche che possono essere dalla viaria a quant'altro per cui preferisco incentivare gli allevamenti biologici quindi c'è l'aspetto razionale però diciamo che il framing mi modifica abbastanza la decisione e il framing viene adattato anche a livello di packaging per esempio cioè se notate una volta i packaging negli anni 80 erano molto più brillanti molto più lucidi non parliamo di biodeogradabile o riciclafico o simile però erano proprio messi per attirare l'attenzione e dire compra questo prodotto adesso attira molto di più un packaging di cartone un po' ruvido e con una scrittina verde perché vi dà l'idea che sia un cartone riciclabile che sia eco-friendly che sia tutta una serie di cose che corrispondono ai valori per cui andate su quello anche se poi oggettivamente non sapete se quel cartone è riciclabile se verrà riciclato banalmente come funzionerà poi il dopo è un framing quindi è un semplicemente la cornice framing poi il frame è la cornice l'incorniciamento di quello che vi viene proposto altro esempio super è lo storytelling di Italy perché Italy vende prodotti che dei rivenditori locali vendono a meno nello stesso modo li porta nella grande distribuzione e li racconta tantissimo è ovvio che la carne di Italy è meglio della carne che compro il supermercato però non è ovvio che sia meglio di quella che compro se vado dal macellaio a caraglio per cui la differenza grossa è che prima la porta anche a New York è ok ma poi ci fa un foglione con scritto questa carne è stata esatto conosciamo sì è quello della Lola famoso è stesso principio sì poi è la stessa ma fa quel giro lì per cui banalmente è sempre un discorso di framing qui appunto c'è la descrizione dei bias perché sono legati a questo cioè metà altro esempio molto banale sempre su quello che vi dicevo prima se dovete fare un'operazione il medico vi dice ci sono il 90% di possibilità di successo dell'operazione oppure c'è il 10% di possibilità che l'operazione vada male cambia la percezione che avete di quell'operazione e cambia il fatto che vogliate farlo meno il risultato è sempre che avete una possibilità su 10 che vada male e 9 che vada bene anche questo è stato molto utilizzato per esempio nel sistema sanitario britannico e funziona nel senso che a livello di questionari o simili mettono le informazioni declinate consapevolmente in un modo o nell'altro 990 sì esattamente è un mix perché poi è bello teorizzare tutti questi questi principi ma poi sono sempre molto mischiati un altro esempio che è l'effetto gradiente se vedete due tipologie di raccolte punti caffè cioè una caffetteria che ha provato entrambe le soluzioni cambia che la velocità non vi ho riportato i dati della ricerca però cambia di base che veniva completata la stessa scheda che ha sempre sette caffè come raccolta punti con una settimana in meno di tempo rispetto alla scheda dove non c'erano già segnati due caffè omaggio qui la differenza tra le due schede è solo quella cioè la raccolta punti di sette caffè quello è però se io lo presento che hai un caffè omaggio dopo averne presi sette e ne devi prendere sette ti sembra di avere una strada da fare più lunga se io te ne omaggio due e comunque ce ne sono sempre sette la gente è più predisposta ad andare avanti e continuare la sua raccolta punti si chiama effetto gradiente anche questo si mischia con gli altri le raccolte punti giocano abbastanza su quello e ragionandoci comunque un po' viene in mente di ragionare così anche noi altri principi sono per esempio l'avversione per la perdita e questa ve la do un pochino più assiomata non ho più paura di perdere soldi che non incentivo a guadagnarne per cui quando vi promuovono qualcosa tendenzialmente è più facile che che giochi non sul livello di infelicità che vi causerebbe una perdita che non sul livello di felicità che vi permetterebbe un miglioramento 50 euro perché pensano di perdere 50 euro se non lo fanno sì sì ma quello è proprio di nuovo una cosa che ha basi statistiche solide e viene utilizzata così come l'ancoraggio mentale che che ancora la decisione è la prima informazione ricevuta questo ci sono un po' di esempi buffi che avevo letto per esempio sì qui c'era una qui c'era ho riportato un esempio è stato chiesto di annotare le ultime due cifre del loro numero di previdenza sociale sempre in Inghilterra è anche un po' come giocano gli illusionisti come metodo non so se avete mai fatto anche ci sono dei giochi online dove vi fanno vedere delle immagini e vi dicono tu hai scelto questa oppure riescono a indovinare il numero a cui state pensando adesso poi magari ve ne trovo uno per la prossima volta anche se sarà fuori tema ma perché sono divertenti sono dei trick che giocano sul fatto che il cervello resti fisso su alcune informazioni che modificano le scelte successive in questo esame sempre in questo esempio statistico hanno usato delle classi di studenti gli hanno fatto dire dei numeri che non c'entravano niente quindi dovevano semplicemente guardare il loro tesserino sanitario dire quei numeri ma quelli condizionavano poi quanto fossero disposti a spendere per un'altra offerta quindi vuol dire che per esempio un commerciale molto aggressivo vi porterà a fare dei ragionamenti che sembrano sconnessi alla vendita che vi vuole fare ma che vi mettono nella predisposizione mentale poi di dire sì a quella vendita lì e questo che è l'ancoraggio mentale è anche un principio molto utilizzato è molto interessante detto ciò questo ve lo faccio vedere anche se diciamo inglese un po' vecchio non si vede benissimo è una pubblicità subliminale che non è neanche così tanto subliminale ma perché tutto questo ragionamento c'entra con quella moda che c'è stata a un certo punto anche lì anni 90 delle pubblicità subliminali quando iniziavano a mettere nei film la marca di sigarette o la marca di whisky o la marca di qualcosa e c'erano anche grossi investimenti in questo tipo di pubblicità e c'è il grosso interrogativo se funzionino o meno questo spot è uno spot ovviamente inglese o no scusate americano dell'88 quindi abbastanza vecchiotto che si basava proprio sulle pubblicità subliminali vi faccio vedere vediamo se è illuminata John Cleese and today I'm here to address a very serious issue an issue with the potential to affect us all subliminal advertising a very subversive technique which uses images flashed before our eyes that last only a split second but just long enough to imprint in our vulnerable minds a product's name not just that item sophisticated vocal tricks are sometimes used without our realising it at a conscious level so suddenly there we are in the market buying things like crazy without knowing why well I say if an advertiser has something to say let him or her come right out and say it the thought that these people are assaulting us with their hidden persuasions morally offends me there I said what I came here to say and now there is a film to be seen or a movie as you American persons call it starring my twin brothers so sit back relax and if I may try pouring yourself a glass of the first non-alcoholic sparkling beverage that comes to mind whatever it may thank you comunque era divertente perché praticamente avrete capito che era una pubblicità della Schweppes però visto che si basa su questo principio in maniera molto esplicita quindi giocano semplicemente sul fatto che l'attore che penso fosse dei Monty Python che era un comico inglese con una potente alliterazione della che ricorda la parola Schweppes e con tutti i messaggi subliminali molto palesi e visibili del caso faceva lo spot alla Schweppes senza dire Schweppes neanche una volta in maniera diretta questo perché appunto prima che venisse teorizzato tutto il nudging si era convinti che i principi del nudging funzionassero cioè della behavior economics funzionassero bene a tal punto da credere che potesse essere applicabile sul messaggio subliminale o c'era stato anche tutto il periodo dell'apprendimento delle lingue nel subconscio per cui uno se andava a dormire con le cassette ascoltandosi le lezioni di inglese o di russo si svegliava sapendo l'inglese o il russo questo non è dimostrato poi vedremo con Neuralink se Elon Musk che sta cercando di connettere il computer alle reti neurali alle reti umane cerebrali se funzionerà magari ci sarà anche un modo di apprendere passivamente sui messaggi subliminali un po' meno nel senso che ci scherziamo e ci ridiamo su io poi vi aspettate che qui devo tornare non farlo ripartire ma tornare a schermo intero non posso più riaggiornare di base poi vi lasciavo il link a appunto questo elenco di lezioncine che vi ho messo perché mi sarebbe piaciuto continuare tutti questi quattro incontri sulla behavior e l'economics ma al tempo stesso temevo che diventasse un po' noiosetto perché alla fine poi l'applicazione pratica a voi non è che interessi così tanto diciamo che qui se volete vedere per esempio le opzioni predefinite che sono i defaults e leggere un pochino di che cosa si tratta potete dare un'occhiata ci sono esempi pratici per esempio su queste qui le default option che vi dicevo per esempio l'hanno usata i taxisti new yorkesi che hanno messo come valore base sul anche su Glovo c'è quando voi dovete lasciare una mancia se il valore base cioè può essere del 10 del 20 o del 30% se è preselezionato sul 20 o se è preselezionato sul 10 o se non è preselezionato del tutto cambia il risultato finale su Glovo che non so se utilizzate che è l'app per prenotarvi il delivery di cibo che vi portano a casa anche lì c'è un'opzione di default che potete scegliere per lasciare una mancia al driver che vi porterà la cena stesso principio ha generato nel caso in analisi 144 milioni di dollari in più in un anno di mance ai taxisti ci sono poi un'infinità di altri criteri di default non me li ricordo neanche tutti vi confesso per cui per esempio c'è l'effetto Goldilocks che non so se avete presente quando cercate di registrare su un servizio online ma in generale se io vi dico questa cosa costa se la facciamo male 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 10 fatta nel migliore assoluto dei modi che proprio non potete fare meglio in 30 se no ve la posso fare in maniera molto dignitosa come vi serve a 20 il 90% delle persone scelgono 20 se io arrivasse e vi dico il mio preventivo è di 20 voi andate a cercarne un altro che faccia 15 quindi dare l'opzione di scelta su più livelli sfrutta il meccanismo psicologico per cui si evitano gli estremi quindi voi tendenzialmente cercherete di escludere sia l'opzione troppo economica sia quella troppo cara andrete su quella mediana questo rimanendo su questo discorso qua giovani bagnone punto it sì comunque no per esempio l'adescamento che il priming sono il discorso collegato alla alla pubblicità subliminale che vi dici per cui abbiamo visto quell'esempio ironico per cui c'erano film che prendono anche in giro i messaggi subliminali beh ma se considerate ce ne sono stati un bel po' e ci sono anche delle normative che riconoscono il fatto che ci sia comunque una valenza di posizionamento di prodotti attraverso messaggi subliminali banalmente il fatto che sia vietato che cioè adesso non è più vietato mi sembra però comunque era vietato il fatto che utilizzassero marche di sigarette nei film adesso stanno di nuovo fumando di più nei film ma non le marche ho il dubbio su quello però fumano di nuovo perché c'è stato un periodo proprio che il passaggio è stato fumano solo più i cattivi poi non fuma più nessuno e adesso stanno ricominciando a fumare ma non c'è più la marca mentre la Lucky Strike del Cowboy si vedeva o le Malboro sempre del Cowboy perché era un Cowboy che fumavano tantissimo evidentemente però si vedevano nei film in maniera abbastanza abituale c'è anche il concetto di far passare un paio di frame che non vedi con la ragione e quello è vietato l'intensità è proibito mettere dentro i fotogrammi singoli che ti influenzino la scelta e tu non ti rendi conto di averli visti perché l'intensità è subliminare la scarpa sì 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 no lì era ironico ed era fatto apposta allora il punto è che non è di dimostrare cioè perché allora sul discorso delle sigarette nei film io posso immedesimarmi nella o nel personaggio e quindi quindi c'è un processo di emulazione per cui ha senso dire non faccio fumare il personaggio così non fumate voi il diverso è il messaggio subliminale proprio messaggio subliminale che è quello preso in giro da quello spot perché quello sì sarebbe appunto il fotogramma tipo nel film Fight Club c'era un fotogramma di un organo maschile che viene ripetuto non so quante volte nel film per una vera frazione di secondo per cui non si vede a occhio nudo quello non è dimostrato che funzioni anche lì era un gioco del regista una specie di easter eggs di easter egg come inserimento nel film scientificamente lì non si sa se vedo se passa un frame solo io non riesco neanche a notarlo di un prodotto su una pubblicità che non c'entra è vietato ma non è dimostrato che quello mi spinga a comprare coca cola qualcosa passa sì sì no è vero poi c'è anche tutto il discorso del priming sensoriale che è un altro bel mondo che per esempio molto banalizzato è il motivo per cui se voi andate in una qualsiasi catena in centro o in un centro commerciale c'è della musica tendenzialmente da discoteca e tendenzialmente a volume alto perché aumenta la propensione all'acquisto molto banalmente perché la musica che ritmo di endorfine quindi vi dà più grine scarpe di cui avete già otto modelli ma comprate il nono perché la musica vincentiva e quel colore lì vi piace in quel momento lì quindi sono tutti dei piccoli escamotage sull'olfatto per esempio è più difficile l'applicazione ma una cosa che esperienzialmente conosciamo tutti è quanto evochi i ricordi sentire un odore che ricorda qualcosa quello è un altro meccanismo cerebrale che se sentite il profumo di una persona che non conoscevate tanto tempo fa per qualsiasi motivo ve lo richiama subito oppure quell'odore di muffa che vi dà l'idea della casa in campagna della nonna cose di quel genere lì il dolore del pagamento è quello che vi dicevo è sempre un discorso di quel tipo lì e ci sono tanti altri aspetti che appunto vi lascerei poi approfondire no vabbè tipo la scarsità per andare un po' più nel dettaglio è un grande abbondanza della scarsità perché di solito non è una scarsità reale è una scarsità comunicativa quindi c'è sempre c'è in abbondanza questa scarsità quindi tutto anche cioè c'è tutto un discorso di esclusività che è legato alla scarsità non è solo e necessariamente quella banale dell'offerta svuotiamo tutto fino all'esaurimento scorte entro domenica quella è palese che è scarsità nel momento in cui però se voi acquistate un prodotto vi faccio l'esempio di una marca sempre intanto qui uso nomi non importa doppelganger non so se lo conoscete un negozio di vestiti che è una catena di bassissima qualità perché costano niente però hanno un bel taglio va bene come utilizzo rapido non è proprio fast fashion cinese brutto è una roba dignitosa è una catena è qui vicino dietro via Roma doppelganger come il doppio il doppio tedesco però è una catena di abiti penso non so se napoletano penso italiana tra l'altro non ho idea però sono molto attivi a livello di digital marketing perché hanno le newsletter fanno un sacco di cose in doppelganger che appunto anche se ha l'atmosfera da sartoria inglese di inizio novecento è un supermercato di vestiti la prima cosa che fanno quando ti acquisti un abito o una cravatta è farti partecipare al loro VIP club che è una tessera che tendenzialmente è la solita raccolta punti però accedi a delle scontistiche e ti danno un'idea di esclusività l'idea di esclusività è proprio quest'idea di scarsità cioè tu sei in una parte ristretta di persone che possono fare una cosa per quanto sia mass market poi quella cosa perché ovvio che se il VIP club sono tutti quelli che acquistano in un negozio non è VIP niente ma non importa perché hai la scheda la tesserina nera patinata tipo Nespresso Nespresso è un altro brand che usa tantissimo il concetto di scarsità perché ti fa l'offerta a tempo ti fa questa idea di sei George Clooney se ti bevi un espresso poi ci sono altre macchinette che probabilmente fanno il caffè buono uguale e costano magari meno però tu vai su un espresso perché a livello di marketing l'hanno impostata così e fanno leva un po' su questi concetti tutta l'in... in fondo c'era un certo numero di certi questo che costa meno per gli ultimi 200 articoli per i primi cioè al solimento quello è per scarsità proprio lineare lineare cioè poi ci sono anche le promozioni dove la scarsità è oggettiva nel senso che c'è MediaWork che decide oh il modello è uscito il modello nuovo di forno a microonde il modello prima me ne rimangono mille in stock quei mille li svendo fino a esaurimento perché poi non ne ho più quindi in quel caso è un mix cioè è ovvio che vendono più in fretta e vendono quelli e non quelli nuovi che magari costano 20 euro in più ma quelli vecchi perché l'utente preferisce ma utilizzano la scarsità per indirizzare l'acquisto su quelli che vogliono togliersi oppure c'è proprio l'invenzione di sana pianta del io scientemente negoziante decido che su 100 prodotti che ho di quel tipo ne metto 10 in promozione per fare scarsità e quei 10 li vendo subito a quel prezzo oppure faccio finta che siano 10 anche se sono 100 perché poi su quello non ci sono regolamentazioni troppo rigide che ti vietino di cioè che vietino di dire che la promozione dura fino a domenica cioè o fino a fine mese è ovvio che nella libertà di qualsiasi commerciante decidere di fare una promozione fino a fine mese però si è un esempio calzante quello è proprio quello non l'ho mai capito però c'è c'è compito di tanto tempo prima ma di molto poco poi via via questo di più quindi giocano sulla scarsità i primi biglietti i primi posti sì lì è io non ho mai capito nel senso che ci sono tanti discorsi tipo se uno fa visita prima il sito della compagnia aerea prova a comprarlo poi torna aumenta il prezzo perché usano i cookies per aumentarti il prezzo a seconda del paese da cui lo compri aumenta il prezzo quindi bisognerebbe usare la VPN provare a mettere il paese di destinazione allora costerebbe meno non l'ho mai capito poi cioè lì in realtà avevo letto che probabilmente c'è proprio una curva a seconda della distanza temporale dal volo per cui conviene in certi periodi rispetto ad altri a seconda anche di quanti comprano i posti eccetera poi c'è una strategia di dumping per cui per esempio tu devi andare a Chicago da Francoforte se tu fai Londra Francoforte a Chicago costa molto meno se c'è poi Francoforte a Chicago è spento arrivare a Londra e poi mi dice che cavolo ebbè è per far dumping e prendere consumatori inglesi perché altrimenti non compreranno solo i tedeschi sì 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 così io per attrarre gli inglesi non solo nello regalo il volo Londra ma addirittura faccio costante tipo scusi ma io non mi faccio però se passa sì sì no ma e lì sono proprio strategie commerciali perché in quel caso ha detto bene lei è proprio per aggredire il mercato inglese in quel caso è comprensibile in altri casi io non ho mai capito come funziona il ragionamento dei prezzi ma però per esempio sempre sulla scarsità ci sono interi mercati che sono un po' regolamentati dal criterio della scarsità tipo il mercato dei diamanti è un mercato in cui nonostante le estrazioni siano maggiori rispetto a quanti vengono venduti vengono stoccati dalle grosse Van der Beers e altri dai grossi commercianti cioè dalle multinazionali che gestiscono i diamanti perché se no ovviamente il prezzo si abbasserebbe anche l'oro cioè non viene estratto tutto l'oro che si potrebbe estrarre perché se no ovviamente abbasserebbe il valore dell'oro e quindi ci sarebbe tutto il problema relativo le edizioni illimitate sono un altro esempio per cui lo stesso libro stesso contenuto con un'edizione un po' più carina in edizione illimitata la Treccani lo fate tantissimo sai che ci sono 250 volumi di quel tipo lì e costano 5 volte quello che costerebbero se venissero stampati in serie illimitata e quindi sono tutti i principi di questo tipo sì per esempio il FOMO sarebbe un meccanismo commerciale che usa la perdita cioè ti dice se tu non approfitti di questa offerta adesso perdi l'occasione di quindi ti convinco a fare l'acquisto non solo perché è positivo ma perché se non lo fai adesso è un po' cervellotico però sfrutta i meccanismi che stiamo dicendo per spingere all'acquisto nel momento desiderato poi vabbè c'è tutto un altro discorso sulle norme sociali che vi accenno come ultimo oggi nel senso che le norme sociali sono un altro fattore fortemente condizionante che rientra pieno nel discorso anche culturale quindi queste cambiano molto a seconda ovviamente dei mercati le norme sociali non sono però solo essere ben educati o essere bravi per solo ma sono il giudizio sociale anche che è molto dal modo di vivere che sia adesso che è molto condiviso e molto molto di posizionamento ci sono diversi esperimenti in merito diciamo che c'è una parte inconscia del cervello che in teoria sempre secondo gli studi modifica abbastanza i nostri certeggiamenti e le cose che facciamo per conformarci alla comunità ed è un fattore istintivo perché ovviamente essendo l'uomo un animale sociale per citare antichi filosofi vive bene in comunità anche se in questi anni siamo abbastanza alienati e il concetto di comunità è molto labile istintivamente cerchiamo approvazione sociale è un principio su cui appunto i social network hanno avuto gran parte del loro successo hanno fondato gran parte del loro successo perché da Instagram in poi la gente cerca affermazione sociale cerca i like cerca altra gente che gli dica bravo perché ammiri o stimi quello che fanno funzionano anche a livello commerciale ovviamente con l'opposto del discorso esclusività di prima però se tutti fanno una cosa io sono più portato a fare la stessa cosa quindi un soggetto che si promuova come il leader di mercato e proprio l'espressione leader di mercato ne è un esempio è più probabile proprio probabilmente un soggetto a cui io affidero la mia fiducia perché come norma sociale percepisco che la comunità si fida di quel soggetto lì quindi io la seguo una mentalità per dire di gregge ma non necessariamente nel senso cattivo poi questo si raffina con il discorso prosumer che faremo fra un paio di lezioni perché ovviamente nel momento in cui le norme sociali diventano anche una verifica non è più solo una cosa emotiva per cui se tutti fanno una cosa la faccio anch'io diventa un se devo fare quella cosa vedo che cosa hanno fatto gli altri provo a chiedere provo a capire e mi comporto di conseguenza vabbè qui c'è un altro esempio buffo che sono le norme descrittive le norme descrittive che sono un po' più alla scusate mi aggandisco un po' e per esempio sul discorso degli asciugamani in hotel qui c'è un un articolo che poi se volete leggervi è di nuovo una roba lunghissima perché sono tutte sono carini perché nel mondo della behavioral economics sono tutte indagini abbastanza universitarie o o tesi o ricercatori che fanno studi però per esempio hanno fatto l'esame del messaggio per non far per far riutilizzare gli asciugamani negli hotel per cui esatto perché si va in hotel si sa che tutti i giorni cambiano l'asciugamano però ovviamente se cambiano l'asciugamano perché lo lascio per terra devono fare il lavaggio consuma energia a un impatto sull'ambiente per cui passando da un messaggio del contribuisce a salvare l'ambiente e riutilizzare gli asciugamani così generico non ha avuto un grande impatto mentre il 75% delle persone che hanno soggiornato in questo hotel ha riutilizzato gli asciugamani almeno una volta durante il soggiorno ha comportato un risultato completamente diverso perché banalmente c'è una descrizione che fa sponda sul lato razionale cioè io non ho solo l'informazione così pulita che mi dice se riutilizzi l'asciugamano salvi l'ambiente hai un dato preciso tipo quello che vi dicevo prima delle tasse in Inghilterra l'ex per cento paga le tasse entro la scadenza del 30 giugno quindi norma sociale se tu le paghi ad agosto sei nel 10% della tua società quindi sei una minoranza quindi sei escluso dalla maggioranza quindi tutta una serie di meccanismi mentali per cui sei più portato a pagarle entro il 30 giugno come indicato norme esplicite ed implicite è un altro esempio perché ovviamente possono essere spiegate in modo diretto come in questo caso oppure essere regole implicite per cento di in vivo è un modo per comunicare esplicitamente che altre persone hanno fatto un determinato prodotto quindi anche lì nel momento in cui vi arrivo cercate di capire che cosa ci sta dietro cioè che cosa vi sta dicendo è valido solo se un partecipa del cento dei presentatori in termini di una importante perché la 5 stelle hanno utilizzato mentre se io vado in un stello a questo punto ottimo ottimo punto quelle sono le personas le personas definiscono quali sono le bias o bias prevalenti per cui lì è il lavoro di chi fa marketing o chi fa comunicazione cioè io devo studiare prima di tutto il target quindi giustamente l'hotel 5 stelle anche lì dipenderebbe da chi è frequentato perché è un hotel 5 stelle a Dubai quindi ci vanno i new money o old money quindi vanno i ricchi russi e quindi fanno ancora peggio che quelli in ostello perché non hanno nessun tipo di sensibilità oppure è l'hotel 5 stelle a Parigi dove va la creme della creme e quindi sensibilità ambientale sensibilità a tutto e quindi se dico riutilizzi le sfumature sono infinite però nel momento in cui si fa l'indagine e si riesce a capire che tipo di personas che tipo di persona però si crea un modello di persona che interessa a quel punto lì si cercano di applicare tutti i pregiudizi che possono influenzarla e quindi si gioca poi con un mix di questi criteri perché poi ovviamente anche al Ritz di Parigi ci può essere il VIP Club che poi lì probabilmente è veramente un VIP Club per cui puoi andare al bar che cavolo non so e avere un cocktail gratuito quando arrivi oppure non so al casino di Monte Carlo dove anche lì sono altospendenti in maniera decisa la zona riservata chi fa la puntata minima da 5.000 euro rispetto a chi ne mette 20 a fish sono tutti criteri che spingono anche persone altospendenti a spendere di più perché poi alla fine a livello di come ve lo sto raccontando serve più che altro a quello a livello sociale in realtà può essere applicato tutto può essere banalmente sulle piste ciclabili un modo di spingere i ciclisti a stare sulla pista ciclabile i pedoni a stare sul marciapiede le auto a stare sulla strada lì è poi come viene applicato in maniera creativa e quindi è divertente per quello perché è un giochino per riuscire a ispirare le persone a fare cosa devono fare senza senza dirlo troppo esplicitamente poi appunto ci sono infinità di esempi poi cambiano anche in realtà i discorsi appunto civiltà per civiltà società per società cioè probabilmente nel mondo islamico non funziona quello che succederebbe in Europa qui c'è un esempio che sto leggendo e mi è tornato in mente sui colori perché per esempio una delle grandi cose che vengono dette spesso visto che ci stiamo impoverendo come lessico come civiltà occidentale è che più parole ci sono che esprimono sfumature di concetti più la capacità di ragionare è articolata e dettagliata cioè se non c'è una parola per un concetto penso meno non riesco a pensare quel concetto ci sono degli esempi pratici qui c'era un esperimento sui colori in Namibia che praticamente su una tribù che non aveva una parola per il colore blu per quella tribù il blu era verde cioè non riuscivano a distinguere il colore blu dal colore verde perché non avevano una parola per il colore blu che sembra dimostrare il fatto che se noi abbiamo o i finlandesi hanno 20 parole per dire neve probabilmente riescono a ragionare di più sulla tipologia di neve di freddo e di tempo che c'è fuori di quanto non possiamo fare noi che possiamo dire neve bufera e bom o pacciacca che però forse è più piemontese che non italiano quindi anche questi sono criteri che rientrano nel ragionamento sulla diffusione dei termini degli acronimi e di come ci esprimiamo quindi purtroppo le pubblicità usano sempre meno parole noi usiamo sempre meno parole internet semplifica sempre di più ma allora spezzo una velocissima lancia su tiktok perché in realtà trovando i creator giusti tiktok dà degli approfondimenti interessanti più di facebook su instagram e facebook vedo chi ho intorno e tendenzialmente non sono persone che ci guadagnano che vivono su quello su tiktok è carino perché al di là di una frastornante quantità di stupidaggini sì sì che lo botimizza proprio completamente perché c'è gente che si tira un secchio d'acqua fredda in testa come media o il gatto che sclera e colpisce il pulcino e lo butta giù dal tavolo quello è il grosso i balletti e le challenge famose però ci sono anche creator tipo c'è un ragazzo che aveva vent'anni che si chiama panozzo no si chiama sì panozzo comunque ve lo posso trovare che è uno storico giovane che racconta in maniera molto divertente episodi storici che vanno dall'antichità al medioevo e parla per 10-15 minuti di un episodio storico ha un buon seguito tutto di x-gen e di ragazzi giovanissimi e dà informazioni che oggettivamente sono interessanti per cui bisogna aver voglia bisogna cercarseli è un barbero dei giovani adesso lo cerco perché non voglio dire le stupidaggini sì e soprattutto i problemi di connessioni possibili e immaginabili beh per esempio sì c'è cena che è qua di Torino che sta sfondando su tiktok che è il figlio di quel del libraio di antico areato di via Po il figlio che mi sembra si chiami Luca è un fenomeno si è Panozzo comunque Giacomo Panozzo lo storico lui per esempio cena invece è seguitissimo su tiktok e ha un format in cui accoglie uno che gli porta un libro antico non si vede chi glielo porta e fa tutta la descrizione di questo libro antico tipo è una prima edizione del 1700 è un tema di alchimia quindi è molto ricercato fa vedere che deve controllare il numero di pagine gli dice ti offro 1500 euro perché il valore commerciale è 2000 e quindi io devo rivenderla quindi ti offro meno ci stai non ci stai e conclude i contratti così però parla delle prime edizioni di Harry Potter parla di tutta una serie di argomenti ed è molto molto seguito ed è molto cioè è come tema interessante perché cioè parla di libri antichi per cui non è l'idea proprio della performer che sculetta certo su TikTok c'è tanto di tutto per cui e poi crea molto la bolla di che cosa si guarda per cui se io guardo i gattini due volte perché quando mi rilasso guardo i gattini poi vedo solo più gattini e lì è oltre la behavior e l'economics lì è proprio è l'algoritmo che decide esattamente che cosa mi può interessare e cosa no comunque qui poi TikTok viene accusato dal governo in grado di spiare ma spia qualcosa di diverso da quello che fa tutti o in realtà no come no come no come no sì no i dati che vengono raccattati sono abbastanza analoghi perché sono tutti dati di abitudini e di interessi e poi in parte anche anagrafici di chi sono gli utenti no l'accusa grossa che fanno gli Stati Uniti a TikTok al di là di quella di spionaggio è che usì un algoritmo per rincoglionire il pubblico occidentale perché nel senso in Cina era un esempio che vi facevo quando parlavo di TikTok c'era proprio un articolo che in Cina l'algoritmo presenta tutti i contenuti educativi scientifici sulla base no sulla base degli interessi per cui c'è un po' di challenge c'è gli amici che fanno la secchiata in testa ma è molto minoritaria a parità di ricerche mentre negli Stati Uniti o in Europa il panozzo di turno io devo andare a cercarmelo devo seguirlo e poi lo vedo se no vedo i gattini e vedo i secchi in testa e quindi sostenevano proprio che non fosse una cosa casuale visto che comunque il software il software utilizzato in Occidente e il software usato in Cina sono diversi sono due app che hanno due nomi diversi il funzionamento è lo stesso ma i risultati sono diversi la tesi di chi dice che TikTok sia uno strumento non così innocuo è quella che lo utilizzino anche un po' per annebbiare gli animi ok allora io saluto chi mi sta registrando grazie a voi alla prossima arrivederci a Grazie a tutti.